Una unica soluzione e 11 condanne, sostanzialmente il Collegio ha accolto le richieste della pubblica accusa. Così si conclude il processo, i 12 imputati dovevano rispondere a vario titolo di falsa testimonianza davanti alla Corte Assese e false dichiarazioni al pubblico ministero nel corso delle indagini sulla scomparsa e poi l'uccisione della quindicenne di Avetrana Sarascazzi il 26 agosto del 2010. Per il fatto sono state condannate all'ergastolo la cugina Sabrina Misseri e la zia Cosima Serrano. Le indagini furono condotte dal pubblico ministero Mariano Buccoliero, pubblica accusa in questo processo e dall'allora sostituto procuratore Pietro Argentino. Confermata la pena a cinque anni di reclusione per Ivano Russo, l'amico che era conteso e intorno al quale sarebbe nata una rivalità proprio tra Sara e sua cugina Sabrina. Secondo il PM mentì per coprire Sabrina cercando di sminuire i rapporti con le due ragazze. Altri quattro anni si aggiungono alle altre condanne per lo zio Michele Misseri. Per falsa testimonianza tre anni sono stati inflitti ad Alessio Pisello, amico di Sara. Per la mamma di Ivano, Elena Baldari, due anni e sei mesi e per il fratello Claudio Russo. I tre familiari avrebbero mentito in merito alla giornata dell'uccisione. Ivano avevano detto era rimasto a casa. È stata assolta l'ex fidanzata Antonietta Genovino. Tre anni e sei mesi di reclusione per Giuseppe e Dora Serrano. La sorella di Concetta, mamma di Sara e Cosima, raccontò di aver subito un tentativo di molestia da parte di Misseri. Tre anni e due mesi per Giuseppe Augusto Olivieri. Tre anni per falsa testimonianza a Maurizio Miseri, nipote di Michele, Anna Lucia Picchieri, moglie di Carmine Miseri. Anna Scredo, cognata del fioraio Giovanni Buccolieri, l'uomo che raccontò di aver assistito al sequestro della ragazzina, poi disse di averlo sognato.